All'interno di un contenitore mettiamo 295 di acqua o di latte, 55 grammi di sciroppo alla menta. Mescoliamo per bene. Versiamo la miscela all'interno dei pirottini. Passiamo i cucchiaini all'interno. Dopodiché possiamo farli congelare completamente. Io consiglio sempre di farli la sera per il giorno successivo. Teniamo uno, lo teniamo un po' nell'acqua tiepida. Ci vorranno pochi secondi. E il nostro gelato ghiacciolo latte e menta è pronto. Grazie. 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 Grazie.